Oggi siamo all'ingresso di un macello dove arrivano ogni minuto camion di queste dimensioni anche più grossi, 3-4 piani, tutti animali stipati, tutti animali che domani saranno già sugli scaffali dei supermercati. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Camion è camion di queste dimensioni, ogni minuto animali che piangono, disperati, che vogliono uscire. Di certo non sono animali come la maggior parte delle persone pensa che hanno desiderio e voglia di finire nei vostri piatti. Gli animali non si sacrificano e gli animali non hanno alcuna intenzione di morire come nessuno di noi del resto. Ciao. 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 Ciao.